L'ho sentito io stesso. Gli schiavi sono liberi. Chi l'ha detto? Lincoln. Dobbiamo raggiungere l'esercito di Lincoln cinque giorni attraverso la palude. Si può morire in molti modi in una palude. Si può morire in molti modi qui. Io non ho paura. Che cosa può farmi? Un uomo. Segui il rumbo dei cannoni di Lincoln. La mia famiglia sarà con me. Per sempre. Io guarderò trionfante. Sui miei nemici. Mングобы. Ge stesso timof looking. Mungwu. E' la mia famiglia fra точно le rego di ISE Donald. E' la mia famiglia fra. It's a essere. E questa buona pagina,orte sua Itale c ecology. Facciamo laisia?".